Sono pronto a fare caso al governo io, non ho problemi. È un contratto firmato, non c'è problema. Insomma, sono tutti d'accordo. Io sono convinto alla fine però il buon senso deve riaffiorare e far sì che diano i soldi. I soldi sono 18 milioni però per repubbliche già progettate e avviate alle gare d'appalto che il governo ha congelato per Padova e per tutti i capoluoghi di provincia italiani. Giordani è pronto alla battaglia legale. Ho firmato un contratto con lo Stato, lo Stato deve darmi i soldi, non c'è niente da fare. Quei soldi serviranno, ricorda Giordani, a trasformare Piazzale Boschetti in un parco, al risanamento delle Mura e del Castello Carrarese, all'acquisto di 250 telecamere di sorveglianza e al risanamento di alcune scuole. Io sono pronto a fare qualsiasi azione e penso che anche gli altri. Io ho un vantaggio, non ho, un colore politico, a me interessa la mia città. Il sindaco ha ordinato gli uffici tecnici di andare avanti spediti anche ad agosto con le procedure che porteranno ai bandi di gara d'appalto per i lavori, così da blindarne la realizzazione e il finanziamento. Intanto, insieme ai colleghi sindaci degli altri sei capoluoghi veneti, il sindaco di Padova si troverà martedì prossimo a Venezia per affrontare insieme la battaglia. Il sindaco di Venezia mi ha chiamato l'altro giorno e siamo decisi a vedere tutti quanti a Venezia il giorno 14 per fare fonte comune perché, ripeto, non è colore politico. Questi sono soldi di cittadini che devono essere dati.